I finanziari del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato beni per un valore comprensivamente stimato in 500.000 euro nei confronti di una persona di Tauria Nova, il cui spessore criminale era emerso nell'operazione Libera Fortezza, accertando l'esistenza di un'articolata organizzazione criminale operante a Polistina, che nell'ambito della cosca Longo Versace erogava prestiti usurai a imprenditori e commercianti, creando un sistema alternativo di accesso al credito e nello stesso tempo mantenendo il controllo del territorio, sottoponendo le vittime ad una condizione di dipendenza economica, commettendo reati contro il patrimonio e l'incolumità personale. Per questo l'uomo era stato rinviato a giudizio, tra gli altri, per il reato di associazione di stampo mafioso, con il conseguente interessamento del GICO del Nucleo di Polizia Economica Finanziare di Reggio Calabria a svolgere apposita indagine di carattere economico patrimoniale a suo carico. I finanzieri hanno così ricostruito il patrimonio direttamente e indirettamente a lui riconducibile, il cui valore sarebbe risultato decisamente sproporzionato rispetto alla capacità di reddituale dichiarata. Da qui il sequestro di nove immobili, denaro contante e nonché tutti i rapporti bancari, finanziari e relative disponibilità per un valore complessivamente stimato in 500.000 euro.